Iniziano a stringersi i tempi per la presentazione delle liste per le elezioni comunali dell'11 giugno prossimo. L'11 maggio infatti dovrebbe essere il termine entro cui depositare le candidature. A Sapri l'amministrazione uscente si presenterà al voto con una formazione in gran parte rinnovata, dato che diversi amministratori in carica, tra assessori e consiglieri, hanno già deciso di non riproporsi agli elettori. Una volontà manifestata anche dal sindaco Giuseppe Delmedico, ma per lui abbandonare il gruppo è più difficile, per questo tarda a sciogliere il nodo. Sapri Democratica, il movimento che ha amministrato la città negli ultimi cinque anni, ha iniziato a programmare una serie di incontri pubblici per elaborare insieme ai cittadini il nuovo progetto politico che dia continuità al lavoro svolto dall'amministrazione del medico, ma anche per catturare persone che, spinte dal desiderio di partecipare alla costruzione di un nuovo futuro per il paese, si dichiarino disposte a condividere il progetto politico e programmatico del movimento e quindi a partecipare attivamente alla prossima campagna elettorale. Il primo incontro pubblico è stato fissato per domenica 9 aprile alle 18, presso l'hotel Pisacane. In quella occasione l'amministrazione del medico traccerà anche un bilancio sull'attività svolta per il comune dal 2012 al 2017. Sul fronte opposto inizia a prendere forma il progetto politico per le prossime amministrative delle associazioni locali Sapri Cantiere Aperto, Sapri Sono Anch'io e Rinascita Acquamedia. Dopo alcuni incontri tematici sono giunti alla conclusione che la città annaspa tra crisi economica, degrado e perdita di identità sociale. Per questo motivo hanno deciso di dare vita ad una lista elettorale civica con l'obiettivo, dicono, di realizzare quel cambiamento da troppo tempo atteso dalla cittadinanza e necessario per rialzare la testa e guardare al futuro con ottimismo. Anche qui restano avvolti nel mistero i nomi dei possibili candidati, in particolare quello di chi dovrebbe correre per la fascia tricolore. Per quanto riguarda i tre consiglieri di minoranza uscenti del gruppo Insieme per Sapri, anche loro sono impegnati nella composizione della squadra e non hanno ben chiaro le idee su chi dovrebbe guidarla. Probabilmente l'unico che ha le idee chiare sul ruolo che vorrebbe avere nella prossima campagna elettorale, senza nasconderlo, è l'ex vice sindaco Giuseppe Delprete. La sua aspirazione è quella di correre per la carica di sindaco, un'aspirazione che ha manifestato a Sapri Democratica, ma il movimento, almeno per adesso, non pare disposto a soddisfarla. Mai come questa volta Sapri, a due mesi dal voto, non sa proprio nulla sui possibili contendenti.